Dottor Mario Lena, docente in scienze. Le mie gengive? Nessun problema. Certo che prima non era così. Mi sanguinavano e mi facevano male a causa della placca dentaria. Finalmente un giorno mi hanno consigliato un dentifricio specifico, Menta D&P, e da quando lo uso non ho più avuto disturbi alle gengive. Menta D&P è così efficace perché continua a proteggere le gengive anche dopo aver pulito i denti. Menta D&P, seguire attentamente le avvertenze e le modalità d'uso.